Attendiamo la regione, le situazioni di forte protezione. Dragaggi nei porti a Palazzo Granducane a Livorno, giornata di studi insieme all'onorevole Silvia Velo, sottosegretario al Ministero dell'Ambiente. Durante la mattinata sono state presentate le novità che il Ministero sta portando avanti per aggiornare il quadro normativo dei dragaggi nei porti commerciali e turistici. Il Ministero ha guidato un'equipe di lavoro, con le regioni, le ARPA, ISPRA, CNR, Istituto Superiore di Sanità e i ministeri concertanti, in particolare i trasporti, ma anche sviluppo economico, agricoltura, che ci hanno supportato in una revisione di tutte le norme relative ai dragaggi. Si tratta di un decreto per i dragaggi dei porti SIN, siti inquinati di interesse nazionale, di un regolamento per i dragaggi nei porti non SIN e lì discipliniamo la possibilità di riutilizzare i sedimenti puliti per il ripascimento, per l'immersione in mare, in maniera più efficace e meno onerosa che il conferimento, quando non necessario, in casse di colmata. Poi abbiamo fatto un intervento normativo nel collegato ambientale che semplifica le procedure e i criteri per l'impermeabilizzazione delle casse di colmata, questione ben nota a Livorno, annosa e ben nota, ahimè, e poi semplifichiamo le procedure per deperimetrare i porti da SIN a SIR, laddove ce ne sono le condizioni. È un lavoro basato sul principio di precauzione ambientale, doveroso quando si tratta di un mare delicato, chiuso come il Mediterraneo, ma che tiene insieme, e io credo che si possa oggi dimostrare che questa è possibile, precauzione ambientale con agibilità dell'attuazione degli escavi nei porti, delle manutenzioni dei porti turistici e quant'altro. Sono totalmente contenti di vedere finalmente una...